Pronti partenza via è la settimana della pedala con i campioni, la tradizionale corsa ciclistica con partenza da Brinzio che quest'anno compie 20 anni. Un appuntamento speciale per i tanti appassionati di ciclismo, amatori e non solo, che potranno affiancarsi in bicicletta a professionisti ed ex professionisti. Il percorso passerà lungo il lago di Varese Sponde di Gavirate dopo aver superato Cuvia e aver svoltato a Cittiglio, a Prodo nella città Giardino e risalita nel parco del Campo dei Fiori per ritrovare il punto di ritrova di Brinzio. Una corsa benefica che farà del bene a tante realtà di tutto il territorio varesino. Si ripete l'appuntamento dell'8 dicembre con la pedala con i campioni, viene tagliato il traguardo delle 20 edizioni, l'organizzazione sempre dei ciclisti ex professionisti in collaborazione con il Veloclub Sommese. L'appuntamento è a Brinzio domenica 8 dicembre, partenza alle ore 10, 49 chilometri da percorrere, come sempre un fine benefico con il devoluto che verrà donato ad 8 associazioni ONOS che operano sul territorio della provincia di Varese. Quest'anno ci sarà un'anteprima, ovvero sabato 7 dicembre alle ore 17.30 presso l'info point della Camera di Commercio in Piazza Montegrappa, quando sarà presente Damiano Cunigo per la presentazione del suo libro Puro Sangue.